Don Vicentino, che cosa hai? C'è a dire? C'è a dire? C'è a dire una preghiera. Assettate. Grazie, non mi asserco. Come ho lì. Come dicevo, c'hai a dire una preghiera. Sì, per parlare, per parlare. In primo luogo c'è domani scusa della scenata di Erassira. A quale scusa, Don Vicentino? A voi siete cristiano troppo buono? No, no, pa' Satanasio, io a Siramangai. Tu vuoi? Hai un brutto carattere, non mi faccio s'attenere. In questo tempo, signor Pazzo. Tu, io, io. Ma Satanasio, Pazzo Furioso, mi arreccio. Penso una cosa che non posso nascere. Ora, per esempio, mi sono a casa e pensano dire, oggi a Dino io vengo qua. E voi avete a fare la remessa. Pensate che avete fatto una cosa più. Pazzo, signor Pazzo Furioso, Pazzo Furioso. No, no, Don Vicentino, ma che è giusto? Mario, vuoi fare la vostra età a fare queste cose? Ma come vuoi fare? Ma voi siete cristiano troppo buono? Sì, 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 posso essere poca importanza. Sì, poca importanza. Ma qua, la cosa, Don Vicentino, la situazione qua è grave. Il mio massimone è stato uno sbaglio, un grosso sbaglio. Ma? Io ora mi piaccio le conseguenze. Ma che decide? Che cosa decide? Sì, sì, io non mi ammoredare con Mara. Ma che dici di Mara mi vuole bene, mi rispetta? Mi rispetta? Ma vuole bene? Non è vero. Non è vero? Ma io viro che non è vero, che non può essere vero. Ma di questo è una fessazione, capite il caso? Sì, sì. Forse solo mi può fare passare questa malattia, stupendo. Ma come perciò si rivegge? Ma, per Satanas, forse lo capisci, no? Sì. Sotturano una parionna di questa maniera. Io non ho rispondito di vestizio. Io ci scippo il cuore. E io mi mangio a pappare! Ma qual è il cuore? Che sono i miei cagliari? Mangi e buiti, va. Ecco. Ossia, io confessore Romano. Volete, che ci faccio? La bella prera che non ce ne pari? Ma quale prera? Che chi non sente prera? Che era nulla? Ossia, ma lo ha il suo pensiero. Ossia, ma pensare stupendo. Io voglio sapere, ossia, quale è il suo peccato che si confessa a me, perché, padre, figlio e spero sempre. Voi state facendo, facendo. Inizio a te. Il segreto della confessione è indiolato. Io vuol dire che a questa volta farà un'accezione. Non posso. Non posso. Non posso. Non posso. Non posso. E allora vuol dire che io vai a stare sempre con questo dungo, con una rossa calana. Con stupendo. Non mi penso che ne vedo. Cosa da nasce? Cosa da nasce? Non lo capisci che succede in una sceglia? Cosa da nasce? Cosa da nasce? Cosa da nasce? Cosa da nasce? Io ho stato 100 anni trovato sul punto di trarci una scopertata. Sti nicchia la casa. Morta a terra. Non posso. 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 ma ci sei responsabile della mia perdizione, ma scippasse, ma scippasse, sta spinato il cuore ma non posso, ma potessi scippare, ma scippasse, ma non posso non vuole? non vuole, non vuole non vuole se non puoi, sei giovane, stura, l'havessi pigliato con cordo e l'havessi fatto parlare a popazza ma voi sei un povero perrino